Ben trovati in studio, dicevo due gli argomenti all'interno di questa nostra puntata, il secondo argomento riguarda il Panta Festival a Montauro che è ufficialmente partito, è partito con ottimi presupposti, con le marce alte come abbiamo detto e come sentirete in questo nostro servizio. Già due le iniziative che sono state realizzate nell'ambito della terza edizione del Panta Festival sul lungomare di Montauro in provincia di Catanzaro, vediamo e ascoltiamo il servizio che abbiamo realizzato a Montauro. Amici di RTC e di RTC Estate, nuova puntata della nostra rubrica, del nostro programma RTC Estate, siamo a Montauro sul lungomare con Federico Perreca che ormai è un volto noto agli amici di RTC e di RTC Estate, Federico ci vediamo ogni anno ovviamente per il Panta, terza edizione del Panta e siamo proprio a casa vostra a lungomare di Montauro, c'è stato peraltro oggi un interessante incontro, ne parleremo tra poco ma soprattutto parliamo dell'inaugurazione della terza edizione del Panta che è partito veramente con le marce alte quest'anno, Federico un cartellone, lo dicevate anche in conferenza stampa, limato, preparato, pianificato e nei minimi dettagli. Allora quest'anno giunti alla terza edizione abbiamo preferito dare l'inizio con un evento che potesse testimoniare quello che rappresenta l'arte per noi, che non è fine a se stessa ma deve essere un mezzo di comunicazione per veicolare dei messaggi positivi. C'è stato questo dibattito aperto coinvolgendo sia la commissione pari opportunità della provincia di Catanzaro coinvolgendo Vita Ambiente nella persona di Pietro Marino, presidente, la commissione pari opportunità con Donatella Soluri, presidente, poi c'è stata Giovanna Costanzo in rappresentanza del Terzo Paradiso presentando l'artista Urto che proprio oggi inaugura la sua mostra sul lungomare delle sue installazioni grafiche. E le vediamo alle nostre spalle. È stato un lavoro preparato insieme al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, voleva comunicare un messaggio positivo di sensibilizzazione per ridurre al massimo lo spreco, per evitare questi tenori di vita che tendono poi a degenerare e a uccidere l'uomo stesso, quindi liberandosi da queste buste, di questi soggetti che vedete da un lato imbustati. Federico, anche perché è uno degli obiettivi centrali del Panta di quest'anno, oltre all'arte e alla cultura, è senz'altro l'ambiente. Oggi c'è Vita Ambiente, ad esempio. Perché è uno degli elementi centrali di quest'anno? Assolutamente. Di stretta attualità appunto la tematica riguardante sia cambiamenti climatici sia inquinamento e quindi bisogna porre argine a questi fenomeni. Noi abbiamo dato testimonianza con Vita Ambiente in questo dibattito che si ricollega all'arte, ma allo stesso modo tramite l'espressione dell'artista Urto che qui sul lungomare proprio oggi inaugura la sua mostra creata in collaborazione con il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Sì, preannunciano tante presenze in quest'angolo di costa ionica calabrese ed è un piacere per voi del Panta insomma potervi esprimere in questo scorcio. Assolutamente. Il nostro obiettivo è proprio quello di dare risalto a questi luoghi, a questo bellissimo scorcio di mare calabrese e noi abbiamo concepito per il terzo anno di seguito questo lungomare come una galleria d'arte a cielo aperto. Nella prima edizione abbiamo ospitato Luca Via Piana, l'anno scorso abbiamo ospitato Massimo Sirelli e quest'anno tocca ad Urto, all'artista Urto. Allo stesso modo sul lungomare si avranno anche diversi eventi culturali e il giorno 22 luglio ad esempio ci sarà un dibattito e presentazione libri con Gero Grassi che è uno dei massimi esperti italiani riguardo la vicenda al Domoro e quindi sarà inevitabilmente un appuntamento molto molto importante da seguire. Allora, dottoressa Costanzio, Fondazione Pistoletto e Panta, un binomio che funziona? Sì, assolutamente sì. Federico è un ottimo direttore artistico e ci ha tenuto particolarmente ad avere la Fondazione come partner in questo progetto importante per il Sud Italia. Fondazione Michelangelo, ultimamente molto chiacchierato per via della Venere e degli Stratci su Napoli, però una grandissima persona, un grandissimo personaggio, artista, scultore, pittore che cerca di coinvolgere le persone, gli spettatori nelle sue opere e lo fa sempre e comunque tutte le sue opere nell'ultimo decennio sono delle opere sociali che coinvolgono il territorio e in tutto il territorio del mondo ci sono i rappresentanti della Fondazione che appunto sono gli ambasciatori che operano seguendo le direttive di Michelangelo perché lui ci tiene tanto sulla sostenibilità e quindi al coinvolgimento del territorio per realizzare concretamente delle opere, non solo le installazioni, le installazioni sono l'opera ultima per grandi eventi e per parlare di sociale, di guerra e anche di ciò che succede in tutto il mondo, quindi una grande persona. Questa iniziativa dal titolo Pari Opportunità tra Arte e Natura è stata immaginata per cercare di promuovere innanzitutto il messaggio dell'agenda 2030 che coniuga perfettamente questi tre aspetti e chiaramente tutti quanti noi siamo impegnati nella realizzazione degli obiettivi, dei goals dell'agenda 2030, da un lato quindi la lotta alle discriminazioni e soprattutto la promozione della parità di genere e dell'uguaglianza, dall'altro lato un impegno appunto condiviso per lo sviluppo sostenibile a 360 gradi, quindi la tutela e il rispetto dell'arte e della natura appunto nello specifico, in un'ottica appunto di condivisione, di sviluppo sostenibile e quindi riguarda tanto il panorama economico, tanto il panorama chiaramente sociale. Questi 17 goals relativi allo sviluppo sostenibile che sono dettati appunto dall'agenda 2030 vedono coinvolte in maniera particolare chiaramente le istituzioni che si occupano di pari opportunità, anche perché ci sono una serie di aspetti che riguardano appunto la promozione dell'uguaglianza, la lotta ripeto alle discriminazioni e quindi anche questa occasione è un'occasione utile per ribadire il nostro impegno su questo fronte e contro la violenza di genere. Ricordiamo sempre anche appunto in questa occasione su Montauro che da qui partirà una programmazione estiva di iniziative di sensibilizzazione contro la violenza per ricordare anche il numero antiviolenza a livello nazionale che è il 1522. Siamo presenti all'interno di questo contesto così come è stato creato perché ogni occasione è buona per sensibilizzare naturalmente i cittadini e nel caso specifico non solo quelli di Montauro, come lo sappiamo in questa località viene naturalmente quasi tutta l'Italia e anche alcune parti del mondo, quindi non potevamo assolutamente perdere un'occasione così ghiotta per lanciare il nostro messaggio che è quello di avere un occhio di riguardo per le nostre coste, per il nostro territorio, perché le amministrazioni tanto stanno facendo e la collaborazione con l'associazione credo che sia fondamentale. D'altronde un messaggio che Vita Ambiente propugna e promuove ormai da anni è che il Pant ha fatto totalmente suo. Paolo Mattia ideatore, fondatore assieme a Federico Perreca. Paolo intanto complimenti per la location perché è un piacere operare qui. Sì, è uno dei tratti più belli d'Italia. Ha partita bene questa terza edizione con le marce alte? Assolutamente sì, è un'edizione molto interessante, è un'edizione che sta avendo le simpatie di tante persone e soprattutto anche sta prendendo l'attenzione mediatica perché comunque avremo come ospiti, avremo tanti ospiti anche di caratura nazionale. Abbiamo deciso quest'anno di alzare il tiro, di ingrandirci, di aumentare l'offerta, di alzare il livello dell'offerta turistica che il messaggio che vogliamo passare è sempre quello che il turismo può andare a braccetto nella nostra regione con la cultura, con l'arte, con la nostra storia, le nostre tradizioni, senza dimenticare un pizzico di divertimento come ad esempio la Notte Azzurra il 4 agosto. L'anno scorso ha visto oltre 6.000 persone qua sul lungomare. Quest'anno avremo anche un concerto con Taranta Ionica, con un DJ molto famoso, Pietro Schiavone. Insomma fino a tardanotte ci divertiremo sul lungomare. Beh si parlerà sicuramente di salute e benessere, sposiamo l'iniziativa ormai da anni del Panta perché? Perché dove c'è l'individuo c'è l'ambiente, dove c'è l'ambiente c'è la socialità ma soprattutto c'è la salute. Quindi la salute non solo come assenza di malattia organica ma anche proprio come salute psicologica, salute sociale e se si parla di benessere per aumentare la qualità della vita degli individui, i bambini, adulti, quelli che siano soprattutto anche i turisti bisogna prendersi cura di noi stessi all'interno di un contesto che come vediamo Montauro ci dà un'opportunità proprio per star bene e quindi aumentare la qualità della vita. Abbiamo il piacere di ospitare un artista molto apprezzato, ovvero Urto, che quest'anno espone le sue opere qui nel Panta. Felice? Sì, sì, moltissimo. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Panta Festival, tutte le persone che ci hanno lavorato insomma da tanti mesi fino ad arrivare adesso. Sono contento anche perché è la prima volta che riesco a fare qualcosina a Catanzaro. Nemo profeta in patria, invece vuoi e bisogna invertire questa tendenza. Sì, sì, infatti probabilmente il fatto che abbia fatto un pochino di cose in giro per un pochino di città in Italia mi ha dato anche l'occasione di fare qualcosa per la mia città, quindi sono molto contento di questa cosa anzi spero ci siano anche altre occasioni. Io lavoro in un'agenzia di pubblicità, quindi di comunicazione, mi sono messo a dipingere. Prima facevo appunto i graffiti in giro eccetera eccetera, poi ho unito un po' la passione della pittura in generale col mondo della comunicazione e della grafica. Infatti la mostra che è qui esposta è appunto questo mix, ci sono elementi che dipingo di solito mischiati a elementi che arrivano dal mondo della grafica, quindi ho unito il mio lavoro con questo mio secondo lavoro barra passione e quindi è venuto fuori questo mix, questo linguaggio ecco, è il risultato di tanti media mescolati insieme. Esperienza positiva con gli organizzatori del Panta, anche se ancora troppo presto magari per trarre un giudizio? No, super positiva perché in realtà ci stiamo lavorando da tanti mesi, quindi abbiamo avuto modo di conoscerci, sono stati super super sul pezzo, mi hanno sempre sostenuto anche in scelte che a volte erano fuori da quello che era magari il format del progetto, quindi esperienza super positiva, anzi sono davvero contento perché alla fine non è così scontato che le persone investono su di te, vogliono appunto quello che è il tuo lavoro, quindi contentissimo davvero. Benissimo, bravo Urto e buon lavoro. Grazie, grazie mille.